Hai detto che una persona può sciogliere i nodi con la vita, da sé o con il tuo aiuto. Come si fa per ottenere questo? Prima di tutto, perché sei così annodato? Perché stai annodando te stesso? Dopotutto, hai solo un filo di vita. Questo unico filo, perché lo rendi tutto annodato? Vedi, le due estremità della vita sono fissate. Se vedi questa vita come un filo, le due estremità sono fissate, nascita e morte. Dimmi, come annodi un filo che è fissato alle due estremità? Devi essere un vero veterano, una sorta di specialista nel fare nodi. Se le estremità del filo non sono fissate, allora puoi annodarlo. Se le due estremità del filo sono fissate, come fai ad annodarlo? Quando sei un esperto tale nel fare nodi, che fare? È molto, molto difficile annodarlo. Quando entrambe le estremità sono fissate. È fissato? È fissato o no? Nella nascita e nella morte è fissato. Non è così? Allora come lo annodi? Potrebbe non essere nemmeno annodato. La vita non è annodata. È solo che, a causa di un senso così terribile, di insicurezza dentro di te, una quantità terribile di calcoli è sorta nella tua mente. A causa di questi calcoli sembra tutto annodato. No, 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 Sadhguru, ma che dire del mio karma? Anche il karma è la stessa assurdità. Può essere tutto raddrizzato in un momento, se ne hai la volontà. Perché entrambe le estremità sono fissate. Nasci un giorno, morirai un giorno. I pochi giorni intermedi. Dov'è il problema? Se vivi qui con un certo senso di abbandono, in ogni caso, il filo è fissato alla morte. Non sussiste possibilità di scioglierlo da lì e metterlo da qualche altra parte. In ogni caso è così che andrà la vita. Allora cosa c'è? Solo vivere totalmente. È tutto qui. Il più intensamente possibile. Se questa intensità deve giungere, se ti rendi conto che le estremità sono fissate, devi gestire solo questi pochi giorni intermedi. e tutte le tue idee di acquisire e perdere sono solo sciocche e assurdità nella tua testa. Se capisci questo, ti calmerai. Semplicemente ti calmerai quando giungi all'essere assolutamente a tuo agio. la gente ha sempre inteso l'essere a proprio agio come letargia. No, solo colui che ha proprio agio è capace di attività intensa. Perché il riposo è la base dell'attività. Uno che riposa costantemente dentro di sé è capace di attività senza fine. Uno che riposa in certi momenti e agisce in altri momenti si stanca sempre dell'attività. Parlo di essere a proprio agio non come letargia. Parlo di essere a proprio agio come la vita è. La vita è a suo agio solo la mente si trova in una qualche tensione. La tensione è giunta perché la mente è disallineata con la vita. Stai cercando di costruire la tua propria creazione e di tenerla su ma non esiste. non hai la volontà di vivere nella creazione del creatore. Stai inventando la tua propria creazione e cercando di tenerla su tutto il tempo. Questa è vera tortura. Cercare di creare ogni tipo di cose finte e costantemente tenerle su penso che dovremmo darti un esercizio. non voglio ammaccare i recipienti in cucina altrimenti avrei chiesto loro di prendere dei bicchieri o dei recipienti. Prova a tenere 25 recipienti in mano tienili su e cammina e vedi cosa ti accade. e soprattutto se i recipienti non sono reali lo devi creare e tenerlo su non lasciarlo cadere. Quando cade e va in frantumi devi piangere devi soffrire. Quando devi tenere su tutto il dramma dal nulla quello è stress quello è vero stress ed è quello che stai facendo. I nodi sono inventati anche l'atto di scioglierli è inventato. Quando diciamo medita ti abbiamo detto spegni tutte quelle assurdità e stai semplicemente seduto. interrompi la messa in scena per un po' almeno anche lì vuoi scioglierlo nella tua meditazione vuoi anche me in collaborazione a fare quella stupida messa in scena. Ieri c'era il bilancio dell'India così ho pensato fammi vedere cosa succede al bilancio hanno dato qualche agevolazione fiscale per lo yoga? Così accendo la televisione voglio vedere cosa succede al bilancio dell'India e quando ho acceso c'era una pubblicità si chiama Bablu o simile il prodotto si chiama Bablu questo Bablu è una gomma liquida gomma da masticare ok? come la gomma da masticare la mastichi affinché i denti siano puliti e profumino è in forma liquida si chiama Bablu e puoi farci delle grandi bolle questo spot Bablu è un'animazione e questo personaggio animato arriva e invece di spruzzare il liquido nella bocca lo spruzza sullo specchio e colla giù dallo specchio di nuovo lo spruzza sullo specchio guardando lo specchio lo spruzza nella sua bocca nello specchio e il liquido colla giù poi se ne rende conto ci arriva lo mette all'interno allora escono delle grandi bolle e compagnia quella è la pubblicità stavo pensando tutto il mondo è proprio così se cerchi di nutrire l'immagine nello specchio se cerchi di parlare all'immagine nello specchio se cerchi di fare qualunque cosa con quell'immagine nello specchio è solo una tale perdita di tempo e specialmente se è uno specchio distorto è una grande assurdità è tutto quello che sta accadendo adesso qualunque cosa accada nello specchio della tua mente tutti i tipi di immagine che crei e ci giochi continuamente perché da qualche parte non ti sei mai interessato alla creazione del creatore da qualche parte sei così orribilmente egocentrico che credi che creerai un giorno qualcosa di più grande della creazione qualcosa di più interessante della creazione e questo è il tuo dolore questa è la tua perdita questo è il tuo nodo se non soffri la vita non sarà buona devi soffrire sai uno che riesce a ignorare una creazione di questa grandezza e magnificenza se non soffri che senso ha la vita? devono soffrire la tua sofferenza non accade a causa di niente i tuoi nodi non accadono a causa di niente solo perché sei troppo coinvolto nella tua creazione non hai occhi per la creazione del creatore non c'è altra ragione e non chiedere la mia collaborazione in questa occupazione no non ci sto in questo questa è la tua occupazione insensata la mia occupazione è qualcos'altro la mia occupazione è con la creazione del creatore per me è sufficientemente buona non solo sufficientemente buona è troppo buona non sono impegnato a inventare la mia propria creazione penso che sia sciocco generare qualunque cosa in questa testa quindi non faccio nulla i miei cervelli possono essere venduti perché non sono usati non fanno gli straordinari e non sono usurati sono proprio inutilizzati lo uso proprio scarsamente solo quando è necessario tutto qui fresco nuovo di zecca sai vecchio modello ma nuovo di zecca quindi tu e i tuoi nodi non ci sono nodi perché entrambe le estremità del filo sono fissate come può essere annodato se un'estremità fosse sciolta potrebbe essere annodata entrambe le estremità sono fissate nessuna possibilità di annodarle